Padre Cordeschi, 36esima edizione della Tendopoli di San Gabriele, quest'anno il tema è quello della misericordia, un tema più che mai attuale, fortemente voluto da Papa Francesco. Sì, noi l'abbiamo attualizzato, la misericordia si è fatta tenda, cioè il Papa ha detto che il nome di Dio è misericordia. E' bellissimo pensare che questo nome di Dio, questa misericordia, abita l'uomo, abita la tenda, perché l'uomo è la tenda di Dio, quindi l'uomo è il luogo della misericordia per eccellenza. Una Tendopoli che vede anche quest'anno tanti giovani provenienti da tutta Italia, ma anche dal Sud America. Sì, questo era un mio sogno, non so, forse lo sapranno tutti, ma degli amici miei nel giorno della mia festa, del 50 anni della mia professione, mi hanno fatto delle offerte, mi hanno regalato circa 6.000 euro. Io ho avuto la possibilità di far venire da Venezuela questi ragazzi che da 20 anni in Venezuela e da 8 anni in Colombia portano avanti la tendopoli. Quindi sono in Venezuela, in Colombia, adesso andremo in Peru ed in Panama, stiamo vivendo questa bellissima esperienza. Siamo con Claudio che arriva dal Venezuela la prima volta in Italia in Abruzzo. La prima volta in Tendopoli, in Italia no. Come hai trovato questa Tendopoli, San Gabriele, questo ambiente così pieno di ragazzi, pieno di giovani? È un ambiente bellissimo perché là in Venezuela adesso tante comunità insieme non si vede per la situazione. Una tendopoli importante, si parla quest'anno, il tema è quello della misericordia, c'è tanto bisogno oggi di misericordia, di solidarietà. Sì, in questo tempo e in tutti i paesi, soprattutto Venezuela, la misericordia ci vuole tanto.